Sulla questione dei concorsi è ormai guerra totale fra la ministra Zolina, i sindacati e gli stessi alleati di governo. Il problema non è di facile soluzione perché nella giornata di martedì la data di avvio delle prove scritte del concorso straordinario è già stata pubblicata nella gazzetta ufficiale. Fin dalla giornata di lunedì la decisione della ministra era stata contestata dallo stesso Partito Democratico per bocca della responsabile scuola Camilla Sgambato. Subito dopo si sono aggiunti i sindacati che ieri, mercoledì, sono ulteriormente intervenuti con una lettera indirizzata a tutti i gruppi parlamentari, lettera con la quale si chiede esplicitamente il rinvio della procedura concorsuale. I sindacati motivano la loro richiesta facendo presente che ad oggi non ci sono certezze sul fatto che le prove di concorso possano svolgersi in sicurezza. Il grande via vai di docenti che prenderanno le prove, dicono, non farà altro che aumentare il rischio di contagio senza considerare poi il fatto che si creeranno non pochi disagi a causa dei concorrenti che si dovranno assentare dalla classe per poter partecipare al concorso. Proprio ieri, però, nel corso del question time svoltosi alla Camera, la Ministra ha spiegato che per il concorso straordinario sono state presentate 64.000 domande di partecipazione e che, per fare in modo che tutto si svolga in modo sicuro e regolare, saranno allestite oltre 20.000 postazioni per una media di meno di 10 candidati per aula. Dal Ministero fanno anche osservare che per il test di ingresso a medicina si sono presentati più di 60.000 studenti e tutto ha funzionato bene. Il fatto è che la situazione potrebbe precipitare e creare un vero e proprio caso politico. Nella diretta web curata ieri dalla nostra redazione, la senatrice 5 Stelle Bianca Granato non ha risparmiato parole dure nei confronti degli alleati di governo. Ormai è chiaro, ha detto in sintesi la senatrice, che il PD non perde occasione per creare problemi, segno evidente che vogliono far fuori la nostra Ministra Lucia Piazzolina per sostituirla con uno dei loro. Parole pesanti che Bianca Granato ha ribadito con noi anche in un momento successivo, aggiungendo guarda caso però nei confronti della loro Ministra Paola De Micheli, che solo il primo settembre si è accorta che l'anno scolastico stava iniziando e che bisognava organizzare il trasporto scolastico, non hanno detto assolutamente nulla. La vicenda come si può intuire è complicata anche sotto il profilo politico e non si può escludere che si possa appesantire ulteriormente nei prossimi giorni. Ovviamente noi continueremo ad occuparcene, a tenervi informati sia su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it quindi voi seguiteci, mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni, i vostri interventi, noi ne daremo conto come sempre.